ciao a tutti benvenuti o bentornati nel mio canale io sono milena e su questo canale parlo quasi totalmente di libri per cui se vi piace leggere o se volete iniziare a farlo vi consiglio di seguirmi perché qui troverete tantissimi consigli oggi vi consiglio 10 libri da leggere durante la primavera e sono praticamente questi qui ne abbiamo un po per tutti i generi infatti partiamo con un manga suddiviso in tre volumi in realtà poi ci sono anche altri due volumi che raccontano la storia dei due protagonisti dal punto di vista dei loro amici o parenti in più c'è anche un libro quindi proprio scritto al romanzo se volete e ovviamente c'è anche il film d'animazione che è in cui io ho conosciuto questa storia e l'ho amata in ogni sua forma e secondo me è un manga molto primaverile sarà anche per il fatto che mi ricorda i ciliegi e quindi il giappone perché ovviamente è ambientato lì però secondo me anche proprio come significato è una storia molto primaverile e poi si legge in un niente quindi è un qualcosa di piccolo che potete portarvi ad esempio al parco visto che queste sono belle giornate in cui uscire stare all'aria aperta e leggere in un pomeriggio i due protagonisti sono taki e mitsua che vivono in due contesti completamente diversi taki vive a tokyo quindi una grandissima città metropolitana e invece mitsua vive ai tomori che è una cittadina minuscola quindi con tutte con tutti i lati negativi di una realtà così ristretta tutti pregiudizi tutti conoscono tutti eccetera e in qualche modo ognuno dei due desidera la vita dell'altro cioè taki è stanco della realtà metropolitana di tokyo e vorrebbe vivere in un posto più piccolo avere degli affetti più stretti più veri mentre mitsua è stanca di vivere in una realtà così stretta e darebbe qualunque cosa pur di vivere a tokyo per uno strano scherzo del destino si ritroveranno a vivere l'uno la vita dell'altra nei loro sogni quindi si ritrovano in pratica nel corpo dell'altro e da qui succede il delirio è una storia molto leggera nonostante nasconda alcuni temi profondi e però insomma fa ridere perché è davvero divertente il fatto che questi due adolescenti si ritrovino nel corpo di un altro genere quindi ecco le loro ragazze che non posso parlare le loro reazioni fanno davvero ridere i personaggi compresi quelli secondari sono ben descritti quindi hanno ognuno una propria caratterizzazione non potrete mai confonderli tra di loro ma la cosa più bella è ovviamente la parte romance che è presente tra mitsua e taki che però non è un romance pesante come sapete io non è che sono appassionata di romance a parte vabbè nicolas spax però è davvero bello perché gira tutto al torno al fatto che questi due personaggi siano legati da una sorta di filo invisibile come se fosse destino che loro due si conoscano e poi vabbè ci sono tantissime altre cose che non vi dico ovviamente e stando in tema di qualcosa che è disegnato e pieno di dialoghi abbiamo nelly bligh questo qui è un graphic novel della tunway che racconta la storia di nelly bligh una giornalista realmente esistita che ha viaggiato per il mondo come potete vedere e adesso vi faccio vedere anche qualche illustrazione perché secondo me sono molto carine ecco non so se sono riuscita a far vedere vedere bene comunque lei è stata una praticamente delle prime giornaliste dei tempi lei è vissuta alla fine dell'ottocento ed è stata e rimane uno dei più grandi esempi di emancipazione femminile e di svincolamento se si può dire così della donna dal ruolo di semplice madre e moglie è stata una pioniera del giornalismo investigativo e pensate addirittura finto di essere una malata psichiatrica per farsi rinchiudere in un manicomio perché ovviamente i tempi esistevano ancora i manicomi e andare a vedere da dentro le condizioni dei malati perché ai tempi non c'erano tutele e molto spesso in molte situazioni venivano maltrattati lei lo fa facendosi rinchiudere ovviamente in un manicomio femminile perché a quanto pare la situazione nei manicomi femminili era anche peggiore di quella dei manicomi maschili quindi ecco questo suo grande sacrificio secondo me è davvero molto importante e in più ha compiuto il giro del mondo non in 80 giorni ma in 72 giorni secondo me resta una lettura ancora molto attuale soprattutto se consideriamo che nei nostri giorni non c'è ancora una vera parità di genere basta pensare al gender gap ma è solo un esempio ci sono tantissimi motivi per cui non abbiamo ancora raggiunto la parità di genere quindi penso che letture come questa siano ancora fondamentali quindi ecco è una lettura istruttiva leggera da fare anche questo molto comodo da portarsi in un parco in un viaggio mentre magari si sta andando a visitare un qualche posto vicino casa e si fa un breve viaggio in treno in autobus se invece siete amanti dei saggi ho un saggio abbastanza breve per voi che è brutta storia di un corpo come tanti di giulia blasi come vedete io l'ho riempito di post it perché mi è piaciuto un bel po si tratta di un libro di 156 pagine il fonte anche abbastanza grande dicevo il fonte anche bello grande quindi riposante per gli occhi perché secondo me in primavera vanno fatte letture belle leggere anche perché comunque si tende ad uscire di più di casa visto che ci sono le belle giornate e quindi magari portarsi dietro un mattone sia nel senso di portarselo in giro che dietro come lettura può essere pesante in primavera quindi consiglio brutta questo è un insieme di saggi in cui l'autrice affronta proprio il tema del corpo femminile perché come praticamente si evince da questa lettura il corpo maschile brutto è visto diversamente dal corpo femminile brutto un po come se gli uomini possono essere brutti e avere nonostante la loro bruttezza delle altre qualità mentre le donne brutte sono relegate solo alla loro bruttezza e non vengono viste per nessun altro motivo ovviamente c'è la premessa che la bellezza è un qualcosa di soggettivo però il senso è che se io mi faccio come prima impressione di un uomo che magari è brutto poi riesco anche andare oltre e a vedere altre qualità mentre con la donna tendenzialmente si resta fermi al suo aspetto fisico dal punto di vista sociale infatti si pretende dalla donna che prima di tutto sia bella sempre bella che sia attraente a prescindere da quello che fa magari nella vita fa qualcosa che non ha nulla a che vedere con il suo aspetto fisico però come prima impressione deve essere sempre bella a 30 e giovani nonostante per me sia stato un libro un po scontato nel senso che non ho avuto delle rivelazioni perché erano già pensieri che bene o male avevo già fatto già interiorizzato penso comunque che possa essere utile per chi si approccia per la prima volta questi temi inoltre i capitoli sono davvero molto brevi le scrive in modo molto ironico anche auto ironico quindi fa sorridere mentre ti fa riflettere su cose serie la cosa che mi è piaciuta è che va un po a scavare e a cercare le cause di questo problema sociale e poi ovviamente il messaggio finale è molto bello quindi ve lo consiglio se invece volete un classico che non sia però un mattone ho qui due consigli per voi il primo è quello un pochino più pesante da leggere proprio per il modo in cui è scritto ed è il Fumatia Pascal di Priandello anche qui vedete un sacco di post-it perché dico che è difficile da leggere un po' per come è scritto perché non è il nostro italiano corrente quindi è un po' difficile da capire anche perché i periodi sono lunghi ci sono diverse virgole, diversi punti e virgola quindi a volte seguire un po' il senso è difficile però la cosa che lo rende secondo me adatto a questo periodo dell'anno è il fatto che è una sorta di dialogo che l'autore fa con il lettore è proprio come se il protagonista ci stesse raccontando la storia della sua vita quindi per questo motivo risulta leggero, soprattutto più leggero di un no nessuno centomila ed è anche quello tra i due che mi è piaciuto di più in pratica Mattia Pascal il protagonista si ritrova per svariate vicissitudini a dover reinventarsi ad avere un nuovo nome, a creare un nuovo sé e alla fine inizia a chiedersi chi sia realmente lui quello di prima, quello di adesso, quello che saranno domani e soprattutto si chiede se sia possibile vivere al di fuori delle convenzioni sociali come appunto avere un'identità ben precisa, un nome, un cognome una data di nascita e sapere esattamente chi sei ecco quindi ve lo consiglio anche perché è pieno di dialoghi quindi secondo me è fattibile da leggere in questo periodo dell'anno l'altro classico che vi consiglio è entrato a far parte dei miei libri preferiti della vita ed è il primo libro che abbiamo letto con il GDL Smeraldo quest'anno sto parlando del buio oltre la sepe di questo trovate una live sia sul canale che su Instagram in cui ve ne parlo proprio in ogni suo dettaglio perché è un libro che ho amato e secondo me è perfetto per questo periodo perché è comunque breve, al di sotto delle 300 pagine ma ha la capacità di tenerti incollato dall'inizio alla fine in più è narrato dal punto di vista di una bambina quindi è molto semplice e diretto come linguaggio e in più la storia è molto accattivante è molto intrigante si parla praticamente di un uomo nero che è stato ingiustamente accusato di stupro di aver stuprato una donna bianca ovviamente lui è innocente e il padre della bambina protagonista, Scout ovvero Atticus, è un avvocato e a lui è stato assegnato il compito di difendere quest'uomo ecco perché vi dicevo che è molto intrigante perché comunque avendo al centro della storia un processo legale e anche lo svolgimento di questo processo tiene il lettore incollato alle pagine perché vuole sapere come va a finire infatti nonostante noi sappiamo praticamente dall'inizio della trama che la storia non finirà bene perché Atticus non riuscirà a dimostrare l'innocenza o meglio a convincere la giuria dell'innocenza dell'uomo accusato comunque tu stai leggendo e vuoi continuare a leggere poi ti affezioni tantissimo i personaggi ti affezioni a Scout, al fratello Gem, all'amico Dil perché sono dei personaggi talmente ben descritti e talmente veritieri che non puoi non affezionarti in effetti Harper Lee ha preso ispirazione proprio dalla sua infanzia e da alcuni suoi amici come ad esempio l'altro scrittore Capote che è praticamente l'amico Dil per scrivere questo libro e questo si vede cioè si vede che c'è molto di reale molto di vita vera in questo libro e quindi secondo me è un libro che leggete in un attimo e tra l'altro c'è l'audiolibro su Audible ed è letto benissimo e secondo me è l'audiolibro meglio letto che io abbia ascoltato finora e infatti a volte io leggevo mentre ascoltavo l'audiolibro proprio perché mi piaceva la voce narrante quindi vi consiglio anche magari di ascoltarlo ah mi ero sbagliato i classici che vi consiglio in realtà sono tre e non due però il terzo libro non l'ho preso perché io non ce l'ho singolo ma ce l'ho nell'edizione Drago che contiene tutti e tre i libri delle sorelle Bronte quindi già abbiamo capito di cosa stiamo parlando il classico che vi consiglio in questo caso è Genir perché è una storia molto lineare molto rilassante che a me sinceramente non ha fatto impazzire però comunque non mi è dispiaciuta cioè nel senso che ovviamente per me non raggiungerà mai non supererà mai i cime tempestose però i cime tempestose per me è una storia più autunnale ricca di passione insomma non si adatta secondo me alla primavera invece Genir per via appunto del suo farti rilassare secondo me si adatta bene è una lettura molto scorrevole inoltre è molto facile entrare in connessione con Jane la protagonista perché l'autrice è proprio in grado di farti provare quello che Jane prova e farti empatizzare con lei Jane è una donna forte in grado di superare veramente tantissime avversità nella sua vita e quindi secondo me è proprio quello che ci serve per rinascere in questo periodo dell'anno e poi soprattutto considerando il periodo in cui è stato scritto il libro secondo me è un grandissimo esempio di autodeterminazione della donna le uniche due pecche sono le frasi in francese che non sono tradotte in italiano che però non so appunto se è un problema dell'edizione che ho io se magari invece in altre edizioni sono tradotte spero di sì perché se no si perde il senso di alcune frasi e in più ci sono davvero troppe nude e anche questo non so se sia un problema della mia edizione troppe 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 nude e basta passiamo invece adesso a tre fiabe che sanno di rinascita una proprio che potete leggere in un'ora due ore insomma in un pomeriggio ed è il piccolo principe questo lo trovate in milioni di edizioni io ce l'ho nell'edizione alter ego anche questo comodissimo da mettere in borsa da portare via e da leggere veramente in un secondo ogni edizione che potete trovare è sempre illustrata o almeno quelle che ho visto io non so se esistano edizioni non illustrate e sono che sono illustrate dall'autore stesso si tratta di un racconto che secondo me va riletto anche da adulti perché da bambini alcune cose non si colgono anche perché è scritto in un modo molto poetico molto fiabbesco per cui secondo me è necessario leggere un po' tra le righe ed è un libro minuscolo ma che ha tantissimi insegnamenti sulla vita sul valore dell'amicizia sul valore stesso della vita è davvero un libro secondo me imprescindibile una volta nella vita va a letto in pratica il narratore sta facendo un viaggio con un aereo il suo aereo ha un guasto nel deserto del Sahara per cui lui atterrà lì e lì incontra il piccolo principe che gli racconta dei suoi viaggi sui vari asteroidi e dei vari personaggi che ha incontrato ogni personaggio che il piccolo principe incontra è un espediente per parlare di vari aspetti della vita come ad esempio l'alcolismo oppure il lavorare fino a se stessi o il raggiungimento del potere ovviamente sappiamo tutti del bellissimo significato che c'è sull'amicizia sia nel rapporto che il piccolo principe ha con la rosa che lascia sul suo pianeta sia per il rapporto che il piccolo principe ha con la volpe che lui incontra è domestica insomma non sarò qui a dirvi il significato perché penso che lo sappiamo tutti quello che mi ha scioccato di questo libro è il finale perché io sinceramente non lo conoscevo e non voglio nemmeno dirvelo perché non voglio spoilerarvelo però ecco secondo me è una di quelle cose che da piccoli non si coglie a pieno ma che si coglie di più quando si è adulti magari se volete ne parliamo nei commenti così non facciamo spoiler a chi guarda il video e non ha ancora letto il libro provo ad accendere la lampada perché mi sa che sta facendo buio ok un pochino meglio continuando con le fiabe abbiamo la bambinaia più famosa del mondo ovvero Mary Poppins e in questa edizione questo libro secondo me è super primaverile anche se in realtà la collana è bur natale a me ricorda proprio la primavera sinceramente e di questo voglio leggervi il pezzetto di trama che c'è scritto dietro perché secondo me è memorabile vento da est dice l'ammiraglio al numero 17 del viale dei ciliegi bussa Mary Poppins è scesa giù dal cielo volando con un ombrello e una grande borsa ed è pronta a far vivere i piccoli Banks tutta la sua magia stupendo questa è una storia che da piccola sinceramente non ho mai conosciuto perché non ho letto i libri i musical non mi ispiravano quindi non ho mai visto il film infatti l'ho visto dopo aver letto il libro e continuo a dire che i musical non fanno per me e quindi è una storia che ho scoperto da adulta e madonna l'avessi scoperta da bimba l'avrei amata ancora di più probabilmente questo secondo me è un libro che anche se siete adulti non avete mai letto dovete assolutamente leggere o rileggere perché vi farà venire in mente proprio l'infanzia i due bambini i due bambini Banks sono bambini pieni di fantasia e quindi vi darà proprio quel senso di leggerezza del fare i giochi da bimbi di quando tutto il tempo era a disposizione per giocare per vivere di fantasia non avere assolutamente nessun pensiero quindi davvero secondo me questo è proprio una boccata d'aria fresca poi come al solito piccolo si può portare dietro Mary Poppins poi è un personaggio è completamente diversa da come me l'aspettavo non è la bambinaia dolce anzi lei è stizzosa e altezzosa molto vanitosa quindi molto concentrata sul suo aspetto fisico su quanto sia bella e si fa assolutamente rispettare dai bambini però nonostante questi aspetti che all'inizio potrebbero far provare antipatia nei suoi confronti in realtà poi è una persona molto dolce a cui i bambini si affezionano tantissimo e che fa vivere loro delle avventure completamente magiche e indimenticabili ultimo libro fiabbesco che vi consiglio però questa volta da leggere a casa probabilmente anche alla scrivania perché non si può portare dietro è Bambi non si può portare dietro in questa edizione anche perché si rovina però se ce l'avete in altre edizioni potreste portarvelo dietro io infatti lo prendo dalla libreria raramente perché si rovina facilmente ecco però ci tenevo a farvi vedere alcune illustrazioni questo è proprio un libro che vi fa sognare già solo per come illustrato perché è illustrato ovviamente da Benjamin Lacombe sì stavo controllando per non sbagliare in realtà questo libro potrebbe essere adatto a ogni stagione dell'anno perché racconta la storia di Bambi proprio in tutte le stagioni per ogni stagione c'è praticamente ci sono due pagine iniziali che ci fanno capire la stagione in cui siamo è una fiaba anche questa che secondo me si apprezza ancora di più da adulti perché comunque è una fiaba un po' triste intrisa proprio di malinconia parla anche di solitudine quindi sono cose che magari da piccoli si coglie meno non a caso Bambi era uno dei miei cartoni preferiti quando ero piccola perché sì ero una bambina triste a cui piacevano le cose triste e malinconiche però ecco da grande ho capito ancora meglio la profondità di questa storia inoltre ho scoperto che l'autore attraverso la storia di Bambi voleva anche far capire il clima di paura in cui viveva la comunità ebraica all'inizio degli anni venti proprio attraverso la vita nei boschi che è intrisa di paura paura di decacciatori paura di cosa si nasconde nell'ombra e questo significato io non lo conoscevo affatto e leggerlo sapendo questa cosa la rende una fiaba ancora più profonda infine se vi piace la narrativa contemporanea io non posso che consigliarvi uno dei miei libri della vita ovvero persone normali di Sally Rooney questo libro mi è entrato talmente tanto dentro ha parlato talmente tanto alla mia interiore perché in fondo mi ci rivedo tantissimo che non ho ancora avuto il coraggio di leggere altro di Sally Rooney nonostante io abbia già parlarne tra amici però prima o poi li leggerò gli altri libri questo libro parla di Marianne e Connell nel corso della loro vita perché si parte praticamente da quando sono adolescenti che vanno a scuole insieme fino all'università e vedremo come si sviluppa il loro rapporto ma non è un romance cioè non vi aspettate una storia d'amore idilliaca e cose del genere no è un libro davvero molto profondo che affronta tanti aspetti della vita tante cose brutte come ad esempio il bullismo la violenza domestica le molestie la depressione come malattia e vi assicuro da persona che ne soffre che viene trattata davvero bene viene scritta in modo realistico ma viene trattata bene anche dal punto di vista proprio clinico nelle prime pagine farete un po' di fatica ad abituarvi allo stile di scrittura perché non ci sono virgolette a segnare chi dice cosa quindi a separare i dialoghi per cui si fa un attimo di fatica a capire chi stia parlando ma una volta ingranato diventa praticamente automatico capire chi dice cosa e secondo me questo vuol dire anche che l'autrice è stata molto brava a delineare i personaggi perché appunto diventa facile capire chi sta dicendo cosa e ora vi leggo un pezzetto della recensione che avevo scritto ai tempi sul blog che oramai non uso più perché penso di non saper trovare parole migliori per esprimere quello che penso di questo libro con una veridicità disarmante Laruni scrive una storia reale fatta di persone vere non edulcorate con i loro problemi traumi, abusi successi e mancanze con le loro difficoltà a relazionarsi con gli altri e con la loro crescita la sua scrittura è graffiante è in grado di scavarci dentro fino a toccare la vita che ci portiamo appresso nella testa come dice Connell questo libro ti fa sentire compreso e non solo perché i tuoi drammi e problemi sono quelli di altri ragazzi e ragazze che vivono in questa epoca così difficile o che riguardano tutte le epoche e che quindi non sei solo tu ad affrontare infatti ecco secondo me lei descrive davvero bene i drammi che accomunano i giovani di oggi cioè lei descrive benissimo che cosa vuol dire essere giovani oggi viene affrontata anche la dimensione di un adolescente quando la scuola e gli amici sono tutto il suo mondo e il giudizio di questi è fondamentale e decisivo una dimensione in cui essere accettati è tutto e quindi spesso si rinuncia al proprio vero essere per evitare di essere marginati compiendo azioni immorali e che non si vorrebbero fare dal mondo dell'adolescenza si passa all'impatto con l'università e a quanto questo possa essere completamente diverso da come se lo si era immaginato e questa è una cosa che mi ha colpita tantissimo perché è quello che è successo anche a me a volte integrarsi e trovare il proprio posto nel mondo può essere difficile e doloroso e credo che parlarne sia importante perché l'università non è fatta solo di successi ma anche di momenti complicati che non sempre è facile superare e questo secondo me è un tema super attuale considerando tutti purtroppo i suicidi così tanto frequenti che ci sono di ragazzi e ragazze che frequentano l'università quindi insomma questo è un libro con cui io ho veramente pianto ho pianto però sono andata avanti è un libro che mi è rimasto dentro e che penso possa rimanere dentro a tante persone ma che possa anche dare una spinta per andare avanti ed è per questo che ve lo consiglio in questa lista bene i miei consigli sono finiti nei commenti scrivete anche voi libri che consigliate da leggere in primavera io poi vedrò se sono libri che ho già letto o che vorrei leggere perché comunque voglio che siate anche voi a dare consigli a me se siete arrivati fin qui vi ringrazio tantissimo se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina in maniera tale da restare sempre aggiornati e noi ci vediamo nel prossimo video ciao book dipendenti